finalmente dopo centinaia e centinaia di messaggi che mi avete mandato di come realizzare la zeppola a forno eccola finalmente guardate che spettacolo la nostra zeppola a forno fatta in casa tutti i segreti di come realizzare una zeppola a forno perfetta come la pasticceria mi raccomando andate a guardare il mio video adesso compare la schermata delle spettacolari zeppole fritte uniche l'unica ricetta reale è un sistema spettacolare per realizzare queste spettacolari zeppole guardate questo video salve a tutti amici benvenuti nel mio angolo di pasticceria oggi realizzeremo le nostre bellissime zeppole a forno andiamo a togliere tutti i dubbi e le insicurezze delle persone che mi hanno contattato e che mi contatteranno di sicuro di come fare una zeppola a forno perfetta in casa nel forno di casa in effetti ci sono dei trucchi ovviamente che vi posso svelare soltanto io in tema come dico come pasticciere di come realizzare una zeppola a forno tipica napoletana perfetta è tutto un gioco di ovviamente chi ritiene che la pasticceria è un campo facilissimo invece io vi dico che la pasta bignè io la chiamo la scienza della pasta bignè perché è una questione di chimica correlata tra grassi uova e amidi ovviamente parliamo di farina bene se seguite passo passo i miei consigli e andate a realizzare le zeppole come vi indico il forno la temperatura ossia in questo caso abbiamo infornato a un forno dicendo ecco il segreto un forno a 180 gradi ventilato quando è ventilato il forno 180 gradi per 20 massimo 25 minuti in un piano al di sotto del piano centrale c'è un binario al di sotto del centro del forno e andiamo ad asciugare le zeppole per 20 25 minuti ovviamente parliamo delle nostre 9 zeppole per teglia di forno con carta da forno sotto alle zeppole per 20 25 minuti massimo mentre per forno statico sempre a 180 gradi di cottura e mettiamo una piccola apertura sullo sportello del forno cioè mettiamo una pallina di carta per far uscire giusto uno spiffero d'aria dal forno e così lo rendiamo un po ventilato però vi assicuro che realizzerete di sicuro anche a forno statico io ho usato un forno ventilato che alle mie spalle vedete anche sui via col vento è uguale se non usiamo forno ventilato dobbiamo usare una piccola apertura per il forno statico andiamo a vedere questa bellissima ricetta allora la ricetta per le zeppole di san giuseppe a forno questa è una dose per circa 12 zeppole grandi più o meno in pasto abbiamo 250 ml di acqua 200 g di burro 5 g di sale 250 g di farina 00 con almeno 10 g di proteine vedete sul retro della farina ci sono scritte le proteine prendete quelle che almeno 10 di grammi di proteine potete anche prendere la farina comune doppio zero però preferibilmente questa qua con 10 g di proteine 8 uova interie medie circa 400 g per la crema invece abbiamo 500 ml di latte 250 g di zucchero 90 g di amido di riso altri 20 g di burro 3 tuorli d'uovo medio circa 70 grammi aroma vaniglia a piacere amarene sciroppate e schiacciate e zucchero a velo andiamo a infornare in un forno a 180 gradi ventilato per 20 25 minuti massimo nel forno statico invece uguale 180 gradi ma con una piccolissima apertura dello sportello mettiamo una pezza una pallina di carta e proseguiamo per la cottura sempre 25 20 25 minuti con lo sportello con lo spiffero aperto questo è tutto il trucco della zeppola forno allora prima cosa come sempre l'acqua nella pentola pesiamo il sale e mettiamo il burro e accendiamo la fiamma e portiamo sempre ad ebollizione assicuriamoci sempre che il burro sia sciolto per bene e man mano vedete iniziamo a sciogliere il burro prima che arriva l'ebollizione altrimenti arriva ebollizione ci sono ancora pezzetti di burro ecco arrivata al massimo dell'ebollizione assicuriamoci che non c'è nessun pezzo di burro e versiamo tutta la farina restando sempre a fiamma accesa sotto la pentola io ho preso una pentola un po' troppo piccola e rischio di buttare tutto fuori però faccio piano ecco in questo modo sempre a fiamma accesa vado ad un certo punto vado a mescolare energeticamente affinché il composto si fa ben solido vedete sempre a fiamma accesa ecco vado a girare molto energeticamente per il composto a questo punto si fa un po più duretto no come la zeppola fritta ma comunque inizia a diventare molto duro sempre a fiamma accesa tutto ciò vado a girare continuamente anche da basso verso l'alto vedete non solo in senso orario ma vedete anche da basso verso l'alto in modo tale da mescolare per bene tutta la farina che c'era all'interno vedete il composto è abbastanza asciutto e spegniamo sotto la pentola e passiamo il tutto sul tavolo come sempre le uova nel recipiente e a questo punto iniziamo a mettere un uovo per volta perché ovviamente se mettiamo tutto insieme o troppe insieme all'inizio rischiamo di far collassare subito l'impasto e di creare grumi invece noi mettiamo prima il primo uovo vedete ho messo una casseruola poi il secondo messo la casseruola sotto perché il composto è ancora bollente quindi rischio di rompere il tavolo poi a un certo punto mi rendo conto che è meglio che metto uno straccio e metto il terzo uovo e quarto insieme che a questo punto già può assumere più liquido mi basto e continua a girare questa operazione ovviamente si può fare in planetaria tranquillamente questo punto metto il quinto uovo e continua a girare ovviamente come vi dicevo lo potete fare avvenissimamente in planetaria sesto e settimo uovo tutte e due insieme fino ad ottenere diciamo un impasto abbastanza cremoso questo punto diciamo un po difficile da realizzare perché da girare anche perché il momento più particolare diciamo incorporare le ultime uova vado a mettere l'ottavo uovo perché vedo che l'impasto è ancora un po duretto io ho usato uova medie magari se usate le uova grandi ce ne vorranno sette o addirittura sei e mescoliamo il tutto fino a ottenere una crema ecco vedete quando l'impasto risulta così che rimane il becco di gallina come si suol dire e vedete l'impasto è pronto non deve essere troppo duro ne troppo molle quando rimane l'impasto in quel modo è pronto ma da togliere ovviamente la cucciarella napoletana e vado a riempire vedete com'è cremoso e liscio ma nello stesso tempo corposo che la zippola deve avere l'impasto dei mini deve avere la forza di sviluppare vado a mettere lo stesso beccuccio usato per le zeppole fritte e vado a riempire sac à poche ecco in questo modo sempre con il foglio di carta da forno sulla teglia da forno vado a fare un giro sotto e un altro più piccolo sopra in questo modo e così via vedete nella teglia da forno ne farò 9 queste sono zeppole medie non molto grandi come vedete diciamo nelle pasticcerie che le fanno piuttosto grandi questi sono medie la grandezza giusta per una persona più o meno dalla pezzatura totale finale con crema e tutto sui 100 120 grammi che è giusto mentre quello che trovate nella pasticceria sono anche sotto i 200 grammi e anche qualcosina in più ecco l'ultima faccio vedere l'inquadratura proprio vicino ecco qua adesso vado a infornare faccio vedere da vicino prima come sono più o meno vedete hanno un forno centrale non molto largo perché si va comunque si andrà a chiudere e noi comunque metteremo all'interno anche sempre un po di crema e vado a infornare in un forno ventilato a 180 gradi vedete il forno centro basso c'è un gradino in meno del centro verso il basso vedete questa è a metà cottura più o meno la cottura durerà sui 20 25 minuti massimo per 9 zeppole e dopo circa 20 25 minuti guardate che spettacolo le nostre zeppole vedete come risulteranno adesso vado ad accendere anche la luce del flash per farvi vedere bene guardate che belle spettacolari ecco vi ripeto per realizzarle nel forno statico sempre 180 gradi con una piccola apertura con una pallina di carta o qualche pezzettino di stoffa e verranno uguali a questo punto passiamo alla crema pasticcera mettiamo sempre amido e zucchero nella pentola andiamo a girare amido e zucchero in questo modo in modo da non far creare grossi grumi quando inseriamo il latte tanto noi comunque io in questo video faccio vedere sistema di come usare il frullatore emessione prima di cuocerla quindi andiamo a rompere tutte le grumi ecco vediamo vado ad aggiungere il latte e giro in tutte le parti diciamo dove è rimasto zucchero e amido ecco in questo modo giro continuamente io potete giustamente usare qualsiasi crema pasticcera a vostro piacimento io vi faccio sempre un ripasso di come realizzare la crema pasticcera e vado a inserire i tuorli vedete senza problemi perché tanto vado a usare il frullatore emersione inserisco i tuorli e a questo punto vado a frullare il tutto con il frullatore emersione vedete in modo da togliere tutti i grumi non c'è bisogno di fare nessuna pastetta di solito si fa la pastetta con tuorli farina e zucchero in questo caso ho messo tutto insieme tanto senza problemi passiamo comodamente il frullatore emersione per togliere tutti gli eventuali grumi e poi passo a cottura come sempre fino al totale assorbimento del latte fin quando la crema è asciutta e ben cotta all'atto che accendo sotto la fiamma inserisco il burro vi ripeto voi potete fare qualsiasi crema pasticcera però vi assicuro che se fate questa crema pasticcera una crema pasticcera ben sostenuta in quanto carica di amidi le macchine danno fastidio in quanto carica di amidi quindi è ben sostenuta per la zeppola vedete man mano poi si va a cuocere vi dicevo la zeppola di san giuseppe ha bisogno di una crema ben sostenuta in quanto alta e deve rimanere diciamo il riccio come diciamo a napoli la rosa di crema crema pasticcera e questa crema pasticcera è sicuro che rimane bella dura e non se ne e non crollerà dalla zeppola ecco vedete man mano si inizia a cuocere come sempre sembrano grumi ma sono grumi di cottura non sono grumi di farina quindi quando si va a cuocere completamente si toglieranno tutti vedete man mano anche con una semplice cucciaia di legno si vanno a togliere figuriamoci adesso che vado a passare anche il il frustino a mano vedete che a fiamma sempre accesa tutto ciò ancora adesso vado a spegnere soltanto quando il fondo vedete si inizia a staccare la crema dal fondo a questo punto posso anche spegnere la fiamma del gas vado a togliere la cucciata di legno e metto la frusta per dare giusto una girata con la frusta ecco in questo modo da togliere ed ho una bella frustata dalla crema vedete che spettacolo diventerà liscissima e poi vado a mettere un recipiente semplicemente in un recipiente d'acciaio se volete raffreddare rapidamente magari il recipiente usato usatelo ben freddo di freezer così subito lo raffreddate mentre se come me vi serve il giorno dopo comodamente si raffredderà con calma girandola di tanto in tanto con un cucciaio io lo uso d'acciaio cucchiaino d'acciaio non c'è bisogno di usare utensili freddi ma se volete usare rapidamente la potete anche direttamente mettere in congelatore circa 10 minuti e subito si raffredderà a freddo vado a unire il sale e gli aromi potete usare qualsiasi aroma a vostro piacimento sia grumi sia vaniglia liquida vaniglia in polvere e vado a girare di tanto in tanto ovviamente dopo messo sale e aromi di tanto in tanto fin quando non si raffredderà completamente il momento della della farcitura delle zeppole vado a mettere una zucchero a velo mettiamo la crema del sac a poche sempre il boccuccio uguale usato per fare le zeppole e centralmente dove c'è quel foro vado a mettere un goccio di crema non molta crema e vado a fare il classico riccio sopra come già avete visto quello per le zeppole fritte qua ne guarnisco soltanto 5 e vado a mettere sempre o amarena chicchi sciroppate oppure amarena visciolate schiacciate che a me piacciono molto di più quelle sciroppate che se qua schiacciate scusate ops è caduta anche la marena bello della diretta e voilà nelle nostre zeppole sono pronte eccole che spettacolo ragazzi ecco 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 Grazie a tutti. Vado a fare il solito assaggio, faccio un po' di sacrificio, anche se sto levitando le giacche non mi vanno più, vado a prendere il pezzo più bello. Grazie a tutti. Alla prossima ricetta, ciao a tutti.